ragazzi oltre alla trama e alle foto ufficiali è stato anche rilasciato il promo ufficiale del settimo episodio della sesta stagione di the flash chiamato appunto the last temptation of barry allen parte 1 e quindi ragazzi iniziamo subito a stava vista ragazzi sono sempre io the gamert800 e oggi ragazzi ci troviamo in una nuova reaction video sul promo ufficiale del settimo episodio della sesta stagione di the flash nello scorso video analisi abbiamo appunto analizzato la trama e le foto ufficiali del settimo episodio della sesta stagione dalla trama abbiamo capito appunto che la crisi si sta avvicinando e barry appunto dovrà morire questo lo sapevamo già ma c'era anche scritto appunto che il nostro caro ramsey rosso ovvero blood work infetterà il nostro caro barry con una sostanza allucinogena quindi per una buona parte dell'episodio vedremo appunto queste allucinazioni di barry e infatti anche dalle foto ufficiali abbiamo il riscontro di queste allucinazioni vediamo la casa di barry vediamo appunto ramsey rosso senza la sua trasformazione in blood work quindi un ramsey pulito senza venuzze senza occhi neri che sta appunto tipo parlando con barry all'interno della casa di barry il che è strano vedremo anche nell'episodio nora allen ovvero la mamma di barry il che è strano sappiamo benissimo che è morta e quindi appunto sono delle allucinazioni di barry quindi barry mentre sarà che ne so incosciente sarà appunto svenuto da qualche parte magari ai laboratori star magari da qualche altra parte avrà queste allucinazioni a causa di ciò che le ha fatto ramsey ovvero blood work quindi vedrà magari alcuni personaggi all'interno di queste allucinazioni tra cui un ramsey che potrebbe essere semplicemente blood work che si è insinuato nella sua mente oppure un ramsey appunto che fa parte delle allucinazioni e poi appunto è anche presente come vi ho detto la mamma di barry quindi sarà fantastico rivederla ovviamente però non è la vera nora allen sarà appunto solamente un'allucinazione di barry chissà se vedremo anche altri personaggi che sono morti o comunque altri personaggi a cui barry tiene tantissimo non saprei dirvi sarebbe strano se appaiono solamente ramsey e nora quindi sicuramente vedremo altri personaggi e ragazzi in altre foto vediamo anche barry che si abbraccia con joe potrebbe essere il tutto sempre all'interno delle allucinazioni oppure una volta che barry esce dalle allucinazioni finito l'incubo va ad abbracciare joe west e appunto si lascia andare infatti vediamo che ha tipo le lacrime agli occhi quindi ragazzi secondo me lì sarà finito l'incubo e barry finalmente dirà oddio che sollievo quindi andrà da joe west infatti vediamo che sono nella casa di joe e non più nella casa di barry oppure quella scena potrebbe sempre fare parte delle allucinazioni di barry non lo so ragazzi sembra essere interessante questo appunto episodio e anche l'ottavo episodio sarà collegato a questo quindi sicuramente questo episodio magari ci lascerà con qualche cliffhanger che ci lascerà in sospeso e poi vedremo il resto nell'episodio 8 tra l'altro come vi ho detto l'episodio 7 e 8 sono estremamente collegati infatti hanno lo stesso nome e appunto si dividono in parte 1 e parte 2 quindi the last temptation of barry allen parte 1 nell'episodio 7 parte 2 nell'episodio 8 quindi appunto è come un unico episodio però diviso in due parti quindi ragazzi sarà fantastico vedere un po' blood work in azione magari finalmente un po' di più delle altre puntate e vedremo anche barry con queste allucinazioni vedremo che cavolo dirà che cavolo farà tra l'altro nella seconda parte della trama c'era anche scritto che la nostra cara iris scoprirà una vasta cospirazione che magari potrebbe centrare con quella foto che ralph ha dato alla fine del sesto episodio ad iris in cui appunto c'era inquadrato in questa foto questo tizio che ancora non conosciamo vestito per bene con una spilletta e quindi magari iris andrà appunto ad indagare su questa cosa qua e scoprirà appunto una vasta cospirazione ci starebbe tantissimo ragazzi diciamo che la cosa avrebbe molto senso e quindi ragazzi dalle foto ufficiali e dalla trama questo è un po' quello che abbiamo capito io credo che l'episodio sarà davvero interessante già dalle foto si capisce è qualcosa di diverso come è anche stato l'episodio 6 anche se era solo divertente comunque è stato un episodio diverso dagli altri quindi ragazzi ci stanno tantissimo questi episodi perché già abbiamo la crisi che sarà abbastanza dark come cosa se ci mettiamo pure a mettere qui gli episodi dark comunque cupi e pesanti veramente la serie diventa pesantissima e non ci va più di guardarla ecco quindi ragazzi credo che vadano bene questi episodi un po' altalenanti un po' divertenti un po' cupi ecco quindi ci preparano un po' a quello che succederà nella crisi quindi spero di vedere davvero tanta roba oggi ragazzi andremo appunto a vedere e analizzare il promo di 20 secondi come al solito dell'episodio 7 e cerchiamo di capire il più possibile quindi ragazzi è arrivato il momento di partire con la reaction video mi metto i cuffioni e iniziamo eccomi qua ragazzi prontissimo a guardare e gustarmi questo promo di 20 secondi del settimo episodio della sesta stagione di The Flash chiamato appunto The Last Temptation of Barry Allen parte 1 quindi facciamo play ok Barry che sta male piange non hai paura? tu dovresti essere l'ondata di antimateria raga è la fine del mondo Barry per terra vuole prendere il controllo di te sta a te resistere oddio c'è un modo per salvare il mondo e sopravvivere ancora? tutto quello che devi fare è scegliere la vita oddio ragazzi oddio non mi dite che Flash verrà controllato da Bloodwork già in questo episodio perché so che c'erano appunto dei rumor degli scatti rubati che ci facevano vedere appunto Barry negative Flash che diventava negative Flash quindi Barry per sopravvivere alla crisi potrebbe addirittura cedere ai poteri appunto di Bloodwork e quindi non lo so diventare qualcos'altro ecco non più una persona ma magari diventare una specie di mostro appunto scegliendo la via di Bloodwork ciò che è sempre detto Bloodwork è appunto di evitare la morte lui con i suoi poteri può evitare la morte quindi chissà se accetterà o meno Barry lo abbiamo visto tipo piangere e stare male all'inizio magari lì era stato appena infettato da questa sostanza appunto allucinogena e abbiamo visto appunto queste allucinazioni dentro la testa di Barry appunto Ramsey a casa di Barry che appunto parlava a Barry abbiamo visto l'ondata di antimateria mamma mia ragazzi che cavolo di paura che fa con l'ondata abbiamo visto anche Nora Allen che appunto avvisava Barry di resistere appunto a Bloodwork e quindi ragazzi roba assurda vedere anche Nora Allen e non so se vedremo altri personaggi non ne ho visti abbiamo visto Barry stare per terra svenuto magari appunto dopo essere stato infettato dalla sostanza cadrà per terra in questa specie di sonno e appunto nelle allucinazioni vedrà appunto Bloodwork che cercherà di portarlo dalla sua parte dalla sua via ecco la via della non morte cioè della vita eterna come dice lui e quindi ragazzi davvero una roba incredibile poi abbiamo visto anche qualcuno che disegnava sul giornale la maschera di Flash cioè c'era la foto di Barry e qualcuno stava disegnando la maschera di Flash sopra quindi una roba incredibile tanta tanta roba quindi ragazzi direi di passare subito all'analisi facciamo play ok ragazzi già qui vediamo appunto appena inizia il promo appunto Barry che sta piangendo sembra stare molto male tutto sudato vedete i capelli tutti stropicciati diciamo così e appunto sentiamo Ramsey che dice non hai paura e ragazzi io di preciso qui non so se si trova già nell'allucinazione o qui appunto quando è stato appena infettato da Ramsey e appunto Ramsey si trova qua vicino quindi non lo so io credo che questa cosa qui potrebbe essere quando viene infettato da questa sostanza e appunto inizia pian piano a svenire e appunto se ne va in queste allucinazioni infatti vediamo che ha questa giacca qui che ha poi anche quando esce tipo da dalle allucinazioni quando sta con Joe West appunto ad abbracciarsi scene che abbiamo visto appunto nelle foto ufficiali ma questa giacca ce l'aveva anche quando stava parlando con Nora Allen quindi non so di preciso distinguere al momento quali sono le scene nelle allucinazioni e quali no quindi ragazzi non lo so fatemi sapere anche la vostra io penso che questa scena sia fuori dalle allucinazioni quando Barry si sta sentendo male a causa appunto di questa sostanza allucinogena quindi appunto Ramsey dice non hai paura per il discorso della crisi che dovrà morire facciamo avanti dice tu dovresti essere appunto non hai paura lo dovresti essere sta tipo tradotto male tu dovresti essere invece lo dovresti essere e appunto ragazzi vediamo Ramsey che sta parlando ed è dietro di lui e Barry con la giacca rossa come alla fine del sesto episodio che appunto sta guardando fuori dalla finestra di casa sua appunto l'antimateria che sta arrivando e sta distruggendo tutti i palazzi della città comunque sta arrivando l'onda di antimateria cosa che succederà sicuramente nella crisi non so adesso precisamente se è su Terra 1 sì o no ma comunque sappiamo che così sarà quando appunto una terra verrà cancellata ovvero l'onda di antimateria che spazza via tutto quindi appunto Barry vede quest'onda di antimateria anche se sono delle allucinazioni appunto arrivare verso casa sua e appunto sembra essere abbastanza spaventato facciamo avanti è la fine del mondo dice appunto Ramsey guardate appunto che Ramsey parla all'interno delle allucinazioni quindi una roba incredibile e vediamo Barry con questa faccia davvero spaventatissima facciamo avanti blocco subito qui ragazzi vediamo appunto Barry gettato per terra magari a casa sua vede un tappeto lì per terra non vi so dire con esattezza che posto sia questo ma giudicare dal tappeto credo sia a casa sua quindi vedo che ha tipo bevuto un bicchiere di qualcosa e magari questo bicchiere era stato infettato tipo o magari è stato infettato da Bloodwork che è venuto fisicamente qui non saprei ragazzi non vi so rispondere a questa domanda comunque sembra che è stato appena infettato ed è appunto svenuto quindi lo vediamo magari svenuto a terra e invece nella sua mente ci sono tutte quelle allucinazioni che appunto stiamo vedendo in queste scene quindi appunto Barry per terra svenuto facciamo avanti ecco vediamo Barry allora che casa è questa ragazzi torno un attimino indietro questa che casa è? la casa di quando lui era piccolo se non sbaglio sì ragazzi ve lo confermo questa qui appunto è la casa di Barry bambino appunto quella lì dove è stata uccisa la madre me ne accorgo perché c'è quell'acquario ai piedi del letto e mi ricordo che quando arrivava l'antiflash appunto si alzava tutta l'acqua da dentro all'acquario quindi questa qui è proprio appunto la stanzetta tipo di Barry quando era piccolo se non sbaglio ragazzi potrei anche sbagliarmi però sembra quella lì eh quindi appunto vediamo Barry all'improvviso stare in questo letto di quando lui era piccolo c'è il letto di quando lui era piccolo ed è strano ecco quindi sono sempre allucinazioni queste qui facciamo avanti tutto strano all'improvviso vediamo Nora Allen appunto che dice vuole prendere il controllo di te anche questa è un'allucinazione però sono felice di vederla ancora una volta questa stagione quindi sono sempre contento quando c'è questo personaggio perché mi ricorda i bei vecchi tempi della prima stagione seconda stagione e tutto il resto facciamo avanti vediamo Barry che sta tipo piangendo diciamo così sta ascoltando sua madre e c'è scritto appunto sta a te a resistere quindi dice vuole prendere il controllo di te sta a te a resistere quindi lo avrà infettato con qualcosa con i suoi poteri e appunto sta cercando di prendere il controllo del nostro flash quindi ecco che qui potrebbe diventare flash negative flash sappiamo queste cose qui ragazzi da alcuni scatti rubati e alcuni rumor che girano online quindi ragazzi una roba incredibile e appunto nell'ottavo episodio vedremo negative flash spero si chiami così spero sarà così appunto e qui vedremo tipo la decisione di Barry riguardo il vivere o morire e sarà appunto una roba davvero interessante quindi facciamo avanti blocco subito qui ragazzi vediamo Barry con le mani al viso con le mani in volto appunto come per dire porca miseria e appunto vediamo che sta nella volta temporale davanti al giornale appunto flash missing vanishes in crisis ovvero flash scomparso svanisce nella crisi il famoso giornale quello lì che c'è dalla prima stagione grazie all'antiflash ce lo sappiamo e appunto c'è scritto dicembre 10 2019 quindi la data è almeno aggiornata quindi ragazzi una roba davvero incredibile vediamo Barry che sta guardando qui sempre nelle allucinazioni credo appunto questo giornale facciamo avanti lo vediamo tipo impazzire vediamo che Ramsey è appunto qui agli Star Labs e appunto credo sia anche questa un'allucinazione perché appunto Ramsey non ha tutte quelle venuzze addosso non ha gli occhi neri è normale proprio come nelle foto ufficiali quindi anche questa qui ragazzi sarà appunto un'allucinazione quindi credo che in queste allucinazioni si sposteranno in molti posti quindi Star Labs la casa magari di Joe la casa di Barry la casa di Barry da bambino quindi tutto ragazzi tutto vedremo sicuramente e appunto vediamo Ramsey che è tipo contento e Barry che sta praticamente impazzendo all'interno di queste allucinazioni facciamo avanti vediamo Barry ragazzi tutto sudato tipo con la faccia incazzata dice Barry c'è un modo per salvare il mondo e sopravvivere ancora? una domanda che fa a Ramsey sentiamo cosa risponde facciamo avanti oddio ragazzi oddio allora allora ho capito una cosa allora questa qui dovrebbe essere la casa di Barry una stanza che non abbiamo ancora visto vediamo Ramsey stare qui dentro sempre con gli stessi abiti e vediamo ragazzi la culletta di Nora Nora West Allen la figlia di Barry mamma mia ragazzi perché vi dico questo perché come vedete dalla culletta sopra la culletta ci sono questi giochetti appesi se vogliamo giochetti questi dischetti con la forma di XS appunto il simbolo di Nora che è appunto sul petto quindi ragazzi Nora da bambina Nora nella culletta lì presenti infatti si vede anche una manina che sta giocando con questi dischetti una manina che sta prendendo questi dischetti e vediamo Ramsey tutto lì rigido che magari si sposta da una stanza all'altra e Barry cerca di seguirlo per poterci parlare intanto che Ramsey spiega le sue cose ecco quindi anche Nora Allen credo sarà presente in questo episodio non Nora Allen grande ma Nora piccola bambina infatti vediamo una manina sporgersi appunto dalla culletta facciamo avanti ecco ragazzi attenzione l'articolo di giornale scritto da Iris West Allen quindi nel settimo episodio Iris inizierà a scrivere l'articolo di giornale appunto Flash Missing Vanishes in Crisis ovvero Flash scomparso svanisce nella crisi quindi sarà Iris a scriverlo e vediamo appunto che lo sta scrivendo sul suo portatile e la foto è aggiornata con la tuta che ha nella sesta stagione vedete un po' ragazzi quindi non so se effettivamente se svanirà o meno Flash comunque se apparirà questa foto qua oppure quella vecchia credo questa qui perché se stiamo vedendo che sta facendo così vuol dire che apparirà questa foto qua quindi ragazzi una roba incredibile facciamo avanti vediamo Iris che stava tipo piangendo scrivendo qua l'articolo Barry che sta impazzendo e sta nella culletta di Nora vediamo appunto quei dischetti con il simbolo di Excessa ancora una volta e vediamo Barry che sta sempre nelle allucinazioni nelle sue allucinazioni e vediamo anche che sta tipo impazzendo sta molto molto triste toccando guardando Nora da bambina quindi ragazzi poverino lui davvero mi fa una tristezza facciamo avanti a una scena del crimine e c'è Camilla appunto che sta facendo delle foto insieme ad Iris e insieme ad Allegra Garcia non so che cosa succederà di preciso ma vedo che c'è un poliziotto che sta facendo luce appunto dentro quest'auto e vediamo appunto che c'è Camilla Iris e Allegra Garcia fuori appunto dalla scena del crimine fuori dalla linea appunto di confine e stanno fotografando appunto questa scena del crimine quindi non saprei dirvi cosa succederà io credo che questa cosa c'entri con la cospirazione la vasta cospirazione che Iris scoprirà e quindi sicuramente c'entrerà questo questa scena qui facciamo avanti ok ragazzi qui vediamo Barry con il costume della sesta stagione appunto il suo costume che si sta togliendo i guanti che cavolo è successo non credo che questa parte sia appunto nelle allucinazioni non voglio pensare questo perché nelle allucinazioni vediamo Barry normale senza costume ecco con varie maglie vari abiti che si cambia non so perché comunque appunto non vedremo Barry con il costume all'interno delle allucinazioni questo credo sia certo vediamo Barry che si sta togliendo i guanti non so che cosa stia succedendo magari ha fermato qualcuno c'è una persona per terra non lo so ragazzi sembra che stia facendo qualcosa di particolare non so dirvi perché la scena è davvero velocissima fatemi sapere la vostra anche su questa scena qua e appunto vediamo che è molto serio e sta facendo qualcosa per terra magari sta facendo una solita missione sta fermando un metaumano sta salvando una persona non lo so ragazzi comunque vediamo questa scena strana facciamo avanti ok ragazzi c'è appunto qualcuno che sta disegnando la maschera di Flash su Barry la foto di Barry su un giornale quindi potrei pensare che questa persona che sta tratteggiando su questa foto di Barry potrebbe essere Allegra Garcia visto che Nash le aveva detto che Barry Allen è Flash e lei lo ha capito lo ha sentito comunque anche se Nash ha fatto finta di non averlo detto ma comunque la notizia gli è entrata in testa quindi magari per essere sicura sta provando a fare questa cosa qua e poi ne sarà convinta lo scoprirà ecco perché non penso sia un giochino che sta facendo guarda caso su Barry Allen appunto disegna la maschera di Flash quindi ragazzi credo che Allegra Garcia lo scoprirà o comunque potrebbe essere un'altra persona magari Camilla non lo so se lo sa o meno che Flash è Barry non lo so ragazzi però appunto potrebbe essere Allegra Garcia che appunto non lo sapeva e l'ha più o meno saputo da Nash Wells quindi potrebbe essere fatemi sapere la vostra quindi roba comunque interessante e qui appunto c'è scritto tutto quello che devi fare è scegliere la vita quindi appunto dopo la domanda che ha fatto Barry poco fa ecco la risposta di Ramsey facciamo avanti ecco vediamo proprio Ramsey che porge la mano come insegno di aiuto come per dire ti aiuto io vieni dalla mia parte e ti salvo io e appunto Barry non so se sarà titubante o non sceglierà proprio quella via o la sceglierà per salvarsi dalla crisi non lo so facciamo avanti vediamo appunto qui Barry sempre in un'allucinazione vediamo appunto la mano di Ramsey che appunto sta dicendo tutto quello che devi fare è scegliere la vita quindi non devi morire devi scegliere la vita e io con i miei poteri ti salvo in pratica dalla crisi questo è il concetto ragazzi facciamo avanti e finisce ragazzi il trailer così porca miseria che cavolo di roba credo che abbiamo analizzato per bene il tutto fatemi sapere la vostra su questo promo incredibile fatemi sapere anche qualcosa su ciò che ho detto io ditemi la vostra ragazzi come sempre apriamo come sempre una discussione qui sotto fate tutte le vostre teorie prima che esca effettivamente l'episodio in America e da noi in subita e quindi ragazzi che dire sembra un episodio coi controcazzi anche questo davvero una roba incredibile e tra l'altro ci sarà Bloodwork Nora Allen appunto la mamma di Barry varie allucinazioni agli Star Labs a casa di Joe West a casa di Barry vedremo Nora quindi quella allucinazione potrebbe essere un'allucinazione del futuro perché abbiamo Nora bambina che non è ancora nata al momento quindi potrebbe essere che ne so nella settima stagione Iris è appunto incinta o verso la fine della sesta o metà della sesta non lo so ragazzi comunque Nora a quanto pare nascerà quindi è una cosa davvero carina quindi rivediamo Nora anche se è bambina comunque la rivediamo e vediamo Barry tra l'altro disperato nella culletta che appunto a parte credo i dolori il sudore che prova ma a parte questo sta ascoltando ciò che ha da dire Ramsey ma allo stesso tempo sembra che si sta disperando perché vuole salvare tutta questa gente quindi vuole salvare anche Nora perché se lui muore non potrà più vedere Nora in futuro e altri personaggi che li stanno al cuore altre persone altri familiari quindi ecco che si dispera lui mentre Ramsey gli dice tutte quelle cose là quindi ragazzi davvero un promo incredibile e spero che il promo dell'ottavo episodio appena uscirà sarà almeno bello quanto questo se non di più quindi tanta tanta roba quindi a questo punto non ci resta che guardare l'episodio è godercelo e quindi niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se volete ragazzi lasciate un like condividete iscrivetevi se non siete iscritti alla prossima iscrivetevi